ciao a tutti oggi prepareremo una torta salata zucca e speck il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono zucca tagliata a cubetti e lessata stracchino parmigiano uova spec a listarelle sale pepe e pasta brisè diamo il via la ricetta abbiamo bucherellato la pasta brisè con i rebbi di una forchetta adesso metteremo la zucca alla base e lo speck mettere nel boccale lo stracchino le uova il parmigiano il pepe e il sale ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3 versare il composto sulla zucca e livellare bene chiudere i bordi e se lo gradite spolverizzare con i semi di papavero cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 40 minuti circa torta salata zucca e speck grazie e alla prossima ricetta torta salata torta salata torta salata torta salata torta salata torta salata teraparso Grazie a tutti.